Il grande maestro romano Ugo Attardi, recentemente scomparso, ha firmato una serie di oggetti unici e preziosi prodotti da Ulisse, penne, orologi in oro e acciaio dalle linee ricercate. La presentazione delle opere d'arte si è svolta nella sede della Ulisse Gallery di Roma, di fronte a un pubblico selezionato ed ha visto la partecipazione di un testimonial d'eccezione. A provare in anteprima gli oggetti, infatti, è stato il cantante Renato Zero. Grazie a tutti.